Nobiletti, per la prima volta i sindaci firmano un documento dove si parla di mafia e criminalità. Sì, finalmente un documento dove si dà il giusto nome a quello che è il fenomeno mafioso presente sul Gargano. Finalmente 15 sindaci, a cui mancano ovviamente i comuni commissariati, hanno dato il nome che merita alla mafia del Gargano. Qualcuno dice che non basta però. Beh, questo comunque è un primo passo importante perché fino adesso si sottaceva il problema, si cercava di sviare l'argomento. Oggi finalmente nel documento del parco è cristallizzato con la firma autografata di 15 sindaci che sul Gargano c'è la mafia. La dia può bastare? Beh, la dia certamente è qualcosa di importante. Noi la auspichiamo già da tanto tempo, quindi quello sarebbe un passo importante. Come magari una sede distaccata della direzione distrittuale antimafia, anche questo sarebbe qualcosa di importante. Però ovviamente io ritengo su questo tema che quello che deve fare il salto di qualità è l'attività investigativa. Cioè lo Stato deve investire nell'attività investigativa di livello alto, come per le altre mafie, come per l'Andrangheta, per la mafia, per la Camorra. Nel momento in cui lo Stato investirà in questa attività vedremo anche i risultati, degli ottimi risultati. Sul Gargano e in provincia di Foggia in generale occorrono però più uomini e più mezzi? Beh, certamente sì, perché la provincia di Foggia è una provincia molto complessa da questo punto di vista, perché non è solo la mafia del Gargano, ci sono anche altre realtà come quella di Foggia, la società, Cerignola, Sansevero. È un quadro molto composito e per questo, per poterla sconfiggere, servono uomini e mezzi.